Sulla carta è chiaro che è una squadra che pur mantenendo magari la maggior parte del giocatore dell'anno scorso, comunque è una società che ha un obiettivo con la salvezza, lo stesso obiettivo nostro. Sì, partite facili non ce ne sono, se pensiamo di andare a chiave a fare una partita semplice rischeremo di fare una bruttissima figura perché comunque pur essendo una società che comunque punta la salvezza, nel mercato estivo ha preso giocatori come Caputo che non tutti credo avrebbero potuto tendere, poi c'è giocatori come Cutelo magari in panchina, c'è giocatori come Sforzino in panchina, ma non è quella la problematica, quello che dobbiamo fare noi è rispettare sempre chi veniva a affrontare, mai sottovalutare nessuno, però sempre con la cattiveria di una squadra che si vuole salvare e che vada in campo a lottare su ogni pallone, che poi possa essere la virtù Centello o Cagliari che cambia un bentore.